Ciao a tutti da Fabrizio, bentornati come al solito qui sul canale. Allora, se seguite il mondo della tecnologia, probabilmente già saprete che proprio in questi giorni è stata rilasciata la nuova versione di macOS chiamata Catalina. Di solito quando esce una nuova versione di un qualunque sistema operativo, si dice sempre, sì ma non aggiornare proprio all'inizio, perché magari può darsi che esca fuori qualche bug e tu te lo ritrovi, mentre invece aspetta magari la versione .1 o .2 di modo che avrai una versione sicuramente più stabile. E io stesso ho sempre seguito questa politica, però per Catalina ho fatto un'eccezione. Ho fatto un'eccezione, infatti l'ho già installato proprio questa mattina sul mio Mac principale, quello con cui lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, perché c'è una caratteristica in particolare che non vedevo l'ora di utilizzare e provare. Allora, piccola premessa di video con l'elenco delle caratteristiche di Catalina, ce ne sono altri mille, quindi questo non vuole essere un video esaustivo, ma semplicemente provare assieme e farvi vedere questa feature per cui appunto ho aggiornato, che si chiama Sidecar, ovvero la possibilità di usare l'iPad che ho qui di fianco e che ho da un po', non è un iPad Pro, è un iPad vecchio, penso che sia l'iPad di sesta generazione, se non erro, come secondo display wireless del Mac. Quindi praticamente avere due monitor, di cui uno appunto è l'iPad, e poter trasferire una finestra dal vostro Mac sull'iPad direttamente. E per dirvi la verità, l'ho usato questa mattina e l'ho trovato molto comodo. Allora, io non sono una persona da doppio display, non mi è mai piaciuta come configurazione, però diciamo che questo è un modo, innanzitutto per utilizzare di più l'iPad, che io vi dico la verità, usavo pochissimo. Lo uso per farci qualche cosa di musica quando sono in viaggio, però normalmente non molto. E il fatto di potercelo avere connesso al Mac e usarlo per buttarci un video, oppure per buttarci la finestra delle mail, sempre lì a disposizione, mentre io sul computer faccio altro, beh, non è niente male perché, diciamo, se uno dovesse comprarlo apposta, no. Però avendocelo, questa caratteristica che viene gratis, non è niente male. Però c'è anche un'altra cosa da dire, ovvero sapete che Apple non supporta i display touch su MacBook, su iMac, queste cose qui, ovviamente iPhone e iPad sono touch, chiaro. Però appunto con questa possibilità di usare l'iPad come secondo display, è possibile utilizzare l'Apple Pencil come dispositivo di input su macOS. Allora, è tutto un casino e direte, vabbè, ma moche, sai che stupidaggine, no. Però effettivamente se utilizzate Photoshop o fate ritocchi grafici o cose del genere, può essere molto molto comodo. Allora, è chiaro che professionisti usano dispositivi dedicati, tipo tavolette grafiche della Wacom o cose del genere, no. Però per chi non fa della grafica la propria attività primaria, può avere un dispositivo come l'Apple Pencil che ti permette, quando tu hai bisogno di fare quella volta ogni tanto grafica, di avere un input molto più chiaro, pulito e veloce rispetto a disegnare col dito sul trackpad, che anche per esempio nel caso voi dobbiate firmare documenti, è chiaro che farlo col trackpad è una schifezza. Invece se voi potete usare la Pencil per firmare sull'iPad al volo, direttamente, innanzitutto potete firmare ogni volta con una firma che è lievemente diversa, quindi molto più verosimile, ma se non altro farlo in una maniera che non sia scritto come da un bambino delle elementari, ecco. Quindi insomma, con questa scusa ho recuperato un Apple Pencil di vecchia generazione, perché il mio essendo un iPad normale non Pro non supporta la Pencil nuova, ma a me diciamo non interessa, la andiamo a unboxare assieme, la metto qui sul Mac che dovrebbe essere ripresa in questo momento e la apriamo, e andiamo a fare il processo di pairing, e vi faccio vedere contemporaneamente come si può utilizzare appunto su Mac OS. Allora penso si debba aprire da questo lato qui, inseriamo la forbice, tagliamo la plastichina solita, qui c'è la linguetta, solleviamo, qui che cosa troviamo? Ah, qui troviamo la puntina di ricambio, e questo accessorio che serve per ricaricarla attaccandola a un cavo di ricarica, va bene, io in realtà la caricherò penso connessa all'iPad, quindi forse non lo aprirò questo, poi niente, manualistica, non ci sono adesivi, nulla, mettiamo tutto qui di lato e tiriamo fuori la pennetta, vediamo come si fa, allora va bene, questa la mettiamo qui, oh che strana sensazione, pensavo fosse scivolosa o gommatina, invece è lucida, ma contemporaneamente fa un grip bestiale, cioè per esempio non riuscite a tirarla via dalle altre dita, semplicemente così, bisogna fare forza, no? allora per caricare la Pencil e farne il pairing, dobbiamo togliere questo cappuccetto che mettiamo qui, nella speranza di ricordarci e non chiudere il Mac poi dopo e disintegrare tutto, accendere l'iPad, e poi connettere la penna della porta Lightning dell'iPad, e vediamo cosa succede, richiesta abbinamento Bluetooth, abbina Apple Pencil, andiamo a controllare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, ecco che la troviamo già connessa qui così, quindi forse è già possibile utilizzarla, non c'è nessun'altra opzione, vediamo se la rimuovo, vediamo se posso usarla, ah sì funziona, perfetto, funziona già totalmente in maniera, va bene, normale, allora vi faccio vedere dal Macbook come si connette l'iPad per utilizzarlo come secondo display, vedete qui in alto è comparsa un'iconcina a propria forma di iPad, che segnala gli dispositivi AirPlay, e qui dice già attenzione c'è l'iPad di Fabrizio, gli diciamo di connettersi, e automaticamente già vedete che è diventato un secondo display, pulito pulito, anzi io faccio così, metto in play un video di YouTube, di cui però tolgo il volume, se no altrimenti non capiamo niente, e poi guardate la magia, ops, posso trascinare la finestra qui, renderla full screen, e poi avere direttamente il mio video che suona così, e facciamo la prova del 9, vediamo se funziona l'input touch della penna, della pencil, wow fantastico, ok, però vabbè non è che Chrome sia l'applicazione più sensata in cui usare una penna come dispositivo di input, però possiamo già vedere una cosa, allora se possiamo evidenziare il testo così, quindi la pencil funziona, uno si aspetterebbe, ah allora posso usare anche il dito, no per comandare, non so per scrollare la pagina, che invece assolutamente no, l'input dal dito non funziona, funziona proprio solo la pennetta, allora vi faccio vedere un paio di opzioni in più, che si possono attivare o disattivare, proprio nell'utilizzo di questo sidecar, ovvero è possibile dirgli di utilizzare la touchbar sull'iPad, per esempio questa cosa potrebbe essere utile nel caso il vostro MacBook non abbia la touchbar, e tra l'altro potrebbe anche far vedere una barra laterale di tasti, shift cose, spostare il dock da uno schermo all'altro, mostrare la tastiera, cose così che però io in realtà ho disabilitato all'istante, perché la barra laterale non interessa, e voglio utilizzare l'iPad come schermo nella sua grandezza più totale possibile, quindi ho nascosto tutte queste opzioni, però si può anche fare un'altra cosa, ovvero se voi andate dalle preferenze qui di sistema e andate su monitor, potete disporre l'iPad proprio come se fosse un secondo monitor, quindi ad esempio potete metterlo in alto, potete metterlo in basso, potete metterlo dove vi pare, io siccome lo tengo alla destra del MacBook, l'ho messo qui di modo che la transizione del pulsore del mouse tra un monitor e l'altro sia perfetta, tra l'altro stavo per dimenticarmi che nelle opzioni del monitor è possibile dire che l'iPad, non solo può essere uno schermo esteso, ma può anche essere uno schermo duplicato, e questa cosa ad esempio mi può venire comoda per utilizzarlo proprio in ambito grafico, in ambito Photoshop, e ad esempio andiamo a prendere un pennello e quindi dovrebbe essere possibile andare a disegnare con la pencil, Pencil, vabbè fantastico, scusate, allora innanzitutto noterete che magari mi esalto con poco, allora c'è da dire che se la metto così molto inclinata non la prende, mentre la prende, beh, mentre la prende solo in certe posizioni, vediamo, penso che, non so, ci devo studiare meglio, capire un po' meglio, se volessi scrivere, adesso questo pennello forse non è perfetto perché è molto soft, ed ecco che ora ha senso anche scriverci, bisogna prenderci un po' la mano, ma questo è il senso, vi farò sapere sicuramente nelle prossime settimane, come mi trovo con questo nuovo setup, se riesco a utilizzare l'iPad effettivamente come secondo display, penso proprio che lo utilizzerò abbastanza, come dispositivo di input per la penna, chi lo sa? Detto questo signori, spero che questo video possa essere stato interessante, nel senso di trovare magari uno spunto per utilizzare meglio, con più produttività quello che già abbiamo a disposizione, oppure magari migliorare proprio la produttività, inserendo un piccolo dispositivo in più, se questo ci permette appunto di fare delle cose più velocemente nel nostro lavoro quotidiano. Detto questo, se ne avete voglia potete lasciare un like qui sotto al video, o magari ancora meglio un commento se avete domande, dubbi, qualsiasi tipo di cosa, idea, sono tutti ben accetti, iscrivetevi magari al canale così restiamo in contatto per quando uscirà il nuovo video molto presto, ma io passo e chiudo e vi saluto, ciao a tutti! Ciao a tutti!